Quello che potete trovare nelle brochure a dicitura USB display 3 in 1 significa che nel momento in cui io non ho altre possibilità, quindi non ho i cavi video, HDMI, UGA, che dir si voglia, c'è sempre la possibilità di utilizzare come cavo l'USB. Quindi basta semplicemente connettere l'USB al computer, in automatico il videoproiettore manderà un sosterino, quindi un eseguibile, in realtà questo vale sia per Mac che per Windows, quindi la possibilità di installare un programmino che permette di visualizzare attraverso l'USB dove si può visualizzare, si può sentire l'audio e c'è anche il controllo qui col telecomando. Questo è utile nel caso di bisogno, nel caso non servessero i cavi e via dicendo. Grazie Grazie Grazie